C'è un incremento importante di impatto, sia diciamo quelle che gli inglesi chiamano le disturbances, cioè i malesseri che noi abbiamo quotidianamente dalle ondate di calore durante l'estate, le medie sulle ondate di calore, la durata delle ondate di calore cresce sempre di più, io mostrerò oggi qualche grafico ed è evidente come questo sta crescendo ed è evidente dai dati che arrivano dal Ministero della Sanità a Roma come ci sia un'incidenza di incremento di mortalità rispetto alle medie annuali nei periodi estivi quando le ondate di calore sono maggiori. Per quanto riguarda il pluvial flooding, cioè queste ondazioni pluviali che abbiamo all'interno della città, anche lì i cittadini se ne rendono ben conto, quello che occorre invece e che stiamo facendo, io sono in questo molto molto entusiasta dei risultati, è riuscire a incidere con le ricerche a livello internazionale europee e quindi il rapporto ricerca, quindi università, autorità locali, incidere su quelle che sono le decisioni che le autorità locali devono mettere in campo di adattamento per evitare che questo sia un progredire senza limite. I cambiamenti climatici impongono nuove esigenze, fra cui un pensiero avanzato per la creazione di servizi integrati per migliorare l'efficacia delle misure di resilienza urbana. A Palazzo San Giacomo è stato presentato il progetto Clarity, del quale il Comune di Napoli è partner diretto. Permetterà così l'applicazione concreta della ricerca nella costruzione di strumenti di pianificazione strategica per l'ambiente e l'urbanistica. Noi questo tipo di attività l'abbiamo costruita ormai in quasi tre anni di progetto, diciamo gomito a gomito con i tecnici del Comune di Napoli. Abbiamo avuto una grande collaborazione e oggi ci rendiamo conto che il prodotto sta incominciando anche ad incidere nelle varie fasi delle attività programmatorie di adattamento che il Comune di Napoli sta mettendo in campo a tutti i livelli, da quello strategico a quello del piano regolatore fino ai piani di quartiere. Le misure sono quelle di migliorare la resilienza delle nostre città, analizzare il microclima che cambia all'interno delle singole città e poi abbiamo un'esperienza pilota di analisi, di sedimentazione di alcune misure tra cui la nostra delibera ossigeno bene comune, c'è una nuova delega che è in capo al sottoscritto per quanto riguarda i cambiamenti climatici e i risultati di queste analisi, sperimentazioni, nuovi modelli di progettazione saranno poi fondamentali per redigere il nostro piano cittadino e quindi oggi ci avvaliamo dell'università che sta già mettendo insieme un po' di queste tematiche ma soprattutto sta studiando perfettamente le misure da adottare nei piani comunali.